In questa giornata di cammino tra Lockenwerk e Skaun vi mostro i segni che indicano la strada al pellegrino verso Trondheim. Innanzitutto ci sono le pietre miliari, quella di oggi segna 61 chilometri alla meta. Poi ci sono i paletti di legno più comuni lungo tutto il cammino e quelli più grandi con una freccia che indicano un cambio di direzione. Queste tavolette invece sono dappertutto, sui cancelli, sui pali, attaccati agli alberi e addirittura sui rami. Grazie a questa segnaletica è praticamente impossibile perdersi nemmeno in mezzo a una palude.